Ad alcune comunità parrocchiali sono stati comunicati i cambiamenti dei sacerdoti interessati al servizio pastorale delle stesse. Sono avvicendamenti che tengono conto delle disponibilità dei sacerdoti che purtroppo si riducono di numero e di forze e del bene delle comunità non solo nel momento presente ma anche in vista del prossimo futuro. Il Vescovo di Città di Castello, Monsignor Domenico Cancianna. Gli anni passano anche per i sacerdoti per cui ci sono i cambiamenti che avevamo già annunciato che Monsignor Franco Sgolupi lascia la Madonna del Latte, subentra Don Paolo Bruschi, Don Salvatore Lucchetti lascia Pietralunga, subentra Don Francesco Coscia e Don Giorgio Mariotti l'Erchi Piosina e Stucci. Questi sono i cambiamenti che avevo annunciato e che da vario tempo ho concordato con i sacerdoti. Anche perché c'è proprio questa difficoltà anche nel centro storico della città? Sì, sul centro storico purtroppo abbiamo questa difficoltà che è arrivata la notizia che i frati minori lasciano San Francesco entro il 31 dicembre 2016. Abbiamo tempo per pensare a come fare, no? Perché quello che più dispiace veramente, e dispiace a tutti, è che questo convento praticamente è partito subito dopo la morte di San Francesco, 1250. E quindi c'è una presenza storica di altissimo rilievo culturale, religioso. Insomma è una perdita che sicuramente ci fa piangere il cuore. Quindi dobbiamo far fronte anche a questo. Però io ho fiducia perché con questo discorso che stiamo facendo delle unità pastorali penso che il centro storico potrebbe essere, diciamo, affrontato, approcciato in una maniera anche più unitaria, no? E non per questo meno scoperta, diciamo, di come facevamo. Perché abbiamo dei sacerdoti validi, certo ridotte numericamente, però abbiamo una crescita dei laici, dei diaconi, dei ministeri, della gente che è maturata, eccetera. Per cui io credo che si può fare un'azione più unitaria e anche, per certi versi, oserei dire anche migliore, no? Perché è più globale e più partecipata.